...un attimo di esitazione, 3 su 600, palla per Serginio, pallonetto delizioso e gol dell'1 a 1. Tipizzazione di contropiede... ...lo spazio, ideale per il traversone, invece è un tiro e la palla si... ...destro di Doni, subito la risposta del Milan, Pirov, Pelizzoli e Serginio, da posizione molto angolata, gol... ...poi toccherà anche a Comandini, ma c'è Serginio ed è il gol del 3 a 0 che succede... ...in corsa al Parma e al quarto posto utile per la qualificazione in Champions League sono quanto mai possibili... ...Serginio legge il movimento di Shevchenko, Serginio si infila, Serginio si cura ed è il sesto gol, Inter 0 Milan 6... ...è la sua partita, Shevchenko, Serginio prende la mira, il sinistro, taglia la tela... ...per Serginio che mette giù il pallone, il suo sinistro è da standing ovescio... ...Sombrosini, il rigore è battuto dal brasiliano Serginio e gol, Milan in vantaggio al diciottesimo... ...in questo campionato, lunga la rincorsa di Serginio, potenza e precisione, non serve a nulla... ...il tecnico rosso nero ha avanzato il brasiliano, autore al quarantunesimo del primo tempo di un numero davvero attaccante... ...il Milan ha già fiaccato a quel punto la resistenza del Torino... ...vene Serginio, terminale a terra, un gioco per il pallone per Serginio, attenzione, portano al tiro... ...goool... ...segno tardi, Rivaldo va a cogliere questo movimento di Serginio puntuale e la manovra tutta brasiliana porta in vantaggio Milan... ...Beppe Signore, dalla bandierina, Rivaldo, incertezza difensiva del Bologna, tutti fermi... ...non Serginio, svelchissimo, controllo con... ...Lugali in corsa... ...la palla in rete, 1-1, il gol di Serginio, sul calcio di rigore al sedicesimo minuto... ...cosiddetta formazione titolare, Serginio, posizione regolare... Serginio davanti a Pellizzoli e il Milan va sul 3-1... ...la recupero, Serginio, partito in posizione regolare, sorpresa la difesa dell'Atalanta... ...la freddezza di Serginio che fa fuori il portiere avversario e mette in rete... ...agostini, ma l'arbitro fa proseguire, siamo in pieno recupero, Capù in mezzo... ...ballone che arriva a Serginio, gran sinistro ed è il gol dell'1-0... ...ehez képest sorra jönnek az akciók, Tomász van esik nagyot, aztán elakad a lövés... ...is mégiscsak begyötül a Milan a kabuba a labdát... ...nyolcadik fel láttunk az imént... ...öt percet ráulja a Milan akció, remek megoldás és a betejezés is az... ...Szerginio... ...ezz a negyed... ...ezz pedig a nyolcvan ötödik versz... ...udinében nyilván már azt gondolták, hogy megvan a meccs... ...Szerginio azonban ezzel a váradban... ...